Prosegue il pressing del Pescara per accapararsi le prestazioni di Richmond Boachy. L'attaccante ganese non rientra più nei piani del tecnico dell'Atalanta e di Reia. I biancazzurri sono ancora alla ricerca di quel giocatore che faccia compiere il salto di qualità ulteriore al reparto d'attacco. Boachy rappresenta una sorta di garanzia per la categoria, nonostante il calciatore non sia particolarmente contento di scendere in Serie B. La situazione però è destinata a definirsi nell'ultima settimana, quando la società orobica potrà valutare le offerte pervenute per il proprio giocatore e al momento ve ne sarebbero alcune anche dall'estero, Spagna e Olanda. Così il Delfino non ha ancora abbandonato del tutto la pista che porta al barese Cristian Galano, anche se il Robben delle Puglie ha un profilo diverso rispetto a Boachy. Si valuta anche il Ternano, Fabio Ceravolo. Nella rossa tarantina ci sono altri due giocatori che interessano al tecnico biancazzurro Massimo Oddo. Uno è il centrocampista Luigi Giorgi, ma anche l'ex Ascolano non gradisce scendere di categoria. L'altro è il difensore Giuliese Cristiano del Grosso, anche se la difesa, dopo l'arrivo di Crescenzi e il ritorno prossimo di Salamon, è praticamente al completo. Sul fronte delle uscite è ufficiale la partenza del terzino Andrea Scrugli, approdato all'Akragas. L'Empoli continua a mantenere vivo l'interesse verso l'albanese Ledyen Memushay, mentre l'Entella, praticamente certa del ripescaggio in B, ha intensificato i contatti per il terzino Fabrizio Grillo. Con la valigia pronta anche Milicevic, Barbuti e Nilsen, offerti a diverse squadre di Lega Pro. Intanto domani pomeriggio, nuovo test per i biancazzurri di Oddo a Cepagatti contro la Torre Alex.